Silvia Romano era ancora viva fino al giorno di Natale e quanto emerso dal vertice svoltosi oggi a Roma tra le autorità giudiziarie italiane e keniane, le quali si sono ritrovate per ricostruire quanto è successo a Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni, originaria di Milano, sequestrata la sera del 20 novembre 2018 a Chakama, nei pressi di Malindi, nel sud del Kenya, dove la giovane portava avanti i progetti per l'infanzia per conto dell'Associazione italiana Africa, Milele Onlus. Silvia inoltre, dopo il sequestro, è stata ceduta ad un'altra banda, hanno riferito gli inquirenti keniani, i quali hanno riportato le dichiarazioni di due uomini che sono stati arrestati perché ritenuti gli esecutori materiali del sequestro. I due saranno processati tra il 29 e il 30 luglio prossimo. Un terzo uomo arrestato ha già ammesso le sue responsabilità, altri cinque sono ricercati, tra cui Saida Adhan Abdi, ritenuto la mente del sequestro. Alcuni della banda da giorni erano appostati fuori della guest house di Chakama. I malviventi armati di Kalashnikov, prima di entrare in casa, hanno sparato ferendo cinque persone, hanno prelevato Silvia Romano senza cellulare e passaporto e l'hanno portata via in moto verso una boscaglia nei pressi del fiume Tanà. Queste le trecine ritrovate cinque giorni dopo quel 20 novembre. Dopo la missione dell'aprile scorso, una squadra dei carabinieri del ROS tornerà in Kenya per raccogliere nuovo materiale probatorio. Intanto arrivano notizie che si è intensificata la presenza della polizia a Chakama per arrivare alla verità sulla sorte di Silvia Romano.